Ascoli Piceno Palco di Travertino è un progetto organizzato dalla Compagnia dei Folli, prevede tre eventi, uno a giugno, uno a luglio e un agosto e tre eventi artistici e culturali che mettono in risalto la bellezza della nostra città attraverso il Travertino. Quindi tre eventi che si svilupperanno, una ad Acquasanta a giugno, il 21 luglio il concerto del volo qui nella nostra bellissima piazza e il 10 agosto un altro evento durante la Notte Bianca. Le nostre due imprese, la Fineplast e la Panighi, hanno detto subito sì a questa iniziativa perché siamo entrambe legate al territorio e in più c'è una coincidenza particolare per la Fineplast il trentennale della nostra azienda.